The entire star, White Dwarf, goes unstable, and it collapses and becomes a supernova. Preparati per un evento cosmico senza precedenti. Like any star, it'll run out of fuel in its core and it starts changing, it starts blowing, getting so large that it will engulf the orbit of Mercury and Venus and come very close to Earth. Gli scienziati prevedono che una terrificante esplosione di supernova presto illuminerà i nostri cieli, visibile dalla Terra ad occhio nudo. Questo fenomeno raro e stupefacente potrebbe eclissare intere galassie e offrire uno sguardo sul potere grezzo dell'universo. Per comprendere l'importanza di questo evento, come ogni star, it'll run out of fuel in its core and it starts changing, it starts blowing, getting so large that it will engulf the orbit of Mercury and Venus and come very close to Earth. Dobbiamo prima capire cosa sia realmente una supernova. In termini semplici, una supernova è la morte esplosiva di una stella. Accade quando una stella raggiunge la fine del suo ciclo vitale e non è più in grado di sostenere la fusione nucleare nel suo nucleo. Questo porta a un collasso catastrofico, seguito da un'esplosione potente che libera una quantità enorme di energia e luce. Queste esplosioni sono così brillanti che possono eclissare brevemente intere galassie, liberando più energia in pochi secondi di quanto il nostro Sole produrrà in tutta la sua vita di 10 miliardi di anni. Ma ciò che rende particolarmente spaventosa questa supernova imminente è la sua prossimità alla Terra e i potenziali effetti che potrebbe avere sul nostro pianeta. La stella in questione è conosciuta come Betelgeuse, una delle stelle più brillanti del nostro cielo notturno. Situata nella costellazione di Orione, Betelgeuse è una supergigante rossa. Una stella in fase di invecchiamento che è aumentata fino a quasi mille volte la dimensione del nostro Sole. Da anni, gli astronomi stanno monitorando da vicino Betelgeuse, notando i suoi insoliti schemi di attenuazione e comportamento erratico. Questi segnali suggeriscono che Betelgeuse potrebbe essere vicina alla fine della sua vita e, quando esploderà finalmente in una supernova, sarà uno spettacolo come nessun altro. L'esplosione sarà visibile anche durante il giorno e di notte, rivaleggerà con la luminosità della Luna piena. Ma, sebbene lo spettacolo possa essere mozzafiato, comporta anche potenziali pericoli. Una supernova è una tremenda esplosione interstellare che si verifica quando le stelle più grandi dell'universo esplodono. Mentre le stelle più piccole semplicemente si spengono, la morte di un pesante peso astronomico è uno spettacolo straordinario. Ha trascorso la sua vita a cannibalizzare le proprie interiora e a volte quelle di un vicino solare per carburante. Quando non rimane più nulla da consumare, collassa su se stessa e poi esplode verso l'esterno in un canto del cigno che eclissa altre grandi stelle e, talvolta, intere galassie, per giorni, settimane o addirittura mesi. In una galassia delle dimensioni della nostra Via Lattea, un'esplosione di supernova dovrebbe verificarsi circa ogni 50 anni, secondo i calcoli statistici. La supernova più recente nella Via Lattea si pensava fosse avvenuta alla fine del 1600, secondo gli esperti fino al 2006. Un gruppo di particelle interstellari che erano sfuggite alla loro rilevazione per 23 anni si è rivelato essere il bagliore di una supernova avvenuta solo 140 anni prima. L'eruzione è passata inosservata agli astronomi a causa della polvere cosmica, che oscura anche la grande maggioranza delle stimate un miliardo di supernovae che esplodono al di fuori della nostra galassia ogni anno. D'altra parte, un paio di binocoli può rivelare alcune supernovae a causa della loro estrema luminosità. Una supernova esplosa 21 milioni di anni fa può essere vista dagli abitanti dell'emisfero nord a settembre 2211, quando osservano la galassia del Mulino. Questa galassia è visibile sopra il manico dell'orsa maggiore, ma è oscurata per la maggior parte degli abitanti dell'emisfero sud. Nelle notti senza nuvole, una carta stellare rende l'identificazione delle costellazioni un gioco da ragazzi. Dopotutto, gli esseri umani hanno tracciato le posizioni di queste stelle e pianeti per molto tempo. Ma cosa succede se una stella ospite appare inaspettatamente tra i suoi ben documentati compagni? È probabile che siano i resti di una supernova esplosa eoni o millenni fa, e la luce di quella stella è solo ora visibile ai nostri occhi. Non è necessario avere una laurea professionale per fare una scoperta astronomica. Nel gennaio 2011, una bambina di 10 anni ha trovato una supernova in una galassia a 240 milioni di anni luce di distanza. Quando emergono nuovi punti luminosi e più distintivi nel cielo, gli scienziati spesso si rivolgono agli astronomi amatoriali per tenerli d'occhio. Con l'aumento delle loro temperature, le stelle prossime a una supernova passano dal rosso al blu. E l'effetto Doppler mantiene le supernova e leggermente blu. La luce delle loro esplosioni viaggia verso la Terra, a una velocità così alta che sembra blu all'occhio umano. Inoltre, una supernova non si sposterà come una cometa o un aereo commerciale. Gli astronomi che vivevano nella Cina antica hanno effettuato il primo record di una supernova circa 2000 anni fa. Il punto luminoso sembrava essere completamente nuovo per loro e non riuscivano a spiegarlo. Ma l'oggetto è scomparso senza lasciare traccia dopo otto mesi di documentazione della nuova stella. Nonostante questa stella elusiva possa essere svanita nell'oscurità, nel 2006 si è verificato un rinascimento dell'interesse per la scoperta. Quando gli astronomi hanno notato somiglianze con i resti di supernova registrati nella Cina antica, è stato un momento di illuminazione. Supernova e simili sono state scoperte in galassie di tutto l'universo, inclusa la nostra, che si trova a milioni di anni luce di distanza. Una supernova visibile ad occhio nudo è stata trovata nel 1987, abbastanza vicino alla Terra da non richiedere telescopi per vederla. La vicina della galassia della Via Lattea, la Grande Nube di Magellano, è il luogo dove è avvenuta questa supernova. Quando gli scienziati hanno trovato i suoi resti ardenti più intensamente nel 2011, ha fatto storia ancora una volta, questa volta entrando in una nuova fase di declino. La luminosità dei resti di questa supernova è diventata più pronunciata man mano che la massa residua del resto si espandeva e colludeva con un anello di detriti rilasciato prima dell'esplosione. I raggi X e il calore rilasciati dalla collisione hanno fatto apparire il resto più luminoso. Dove è iniziata l'autodistruzione di questa stella? Dai suoi umili inizi come stella neonata, formata quando gas e polvere si piegano sotto la forte forza di gravità, emerge una grande stella. Il nucleo di una stella giovane attrae più gas e polvere dal mezzo interstellare mentre si riscalda. Questo processo di maturazione può durare fino a 50 milioni di anni, dopodiché c'è una fase adulta splendente che dura altri 10 miliardi di anni. Da dove proviene tutta quella luce abbagliante? La fusione nucleare dell'idrogeno in elio, un elemento leggermente più denso e pesante, è il processo che alimenta le stelle. Le stelle subiscono la fusione nei loro centri e l'energia risultante irradia verso l'esterno, illuminando l'universo e impedendo al nucleo denso della stella di esplodere. La fine della vita di una stella inizia quando il suo carburante di idrogeno non può più essere utilizzato per creare elio. La temperatura del nucleo aumenta quando inizia a collassare a causa della minore energia irradiata verso l'esterno. L'espansione della stella è causata dalla fusione di idrogeno, che avviene solo nei suoi strati esterni. Diventa una gigante rossa. Una gigante rossa perderà i suoi strati esterni per diventare una nana bianca. Una stella di massa sufficiente esploderà infine in una supernova, consumando quegli strati e combinandoli in elementi sempre più pesanti. Se la gravità della stella è insufficiente, espellerà invece i suoi strati esterni nello spazio, raffreddandoli. Il collasso del suo nucleo provocherà un'esplosione al di là di qualsiasi cosa abbiamo mai visto sulla Terra, a meno che non accumuliamo ed esplodiamo simultaneamente alcuni ottiglioni di bombe nucleari. Qualcuno sa a che distanza si trova Betelgeuse, dato che è la supernova più vicina possibile? Anche se non si possono determinare distanze precise, è probabile che si trovi vicino a mille anni luce, il che è relativamente vicino secondo gli standard galattici. L'eventuale esplosione di supernova di Betelgeuse è un fatto che conosceremo. Tuttavia, il suo momento rimane incerto. Si sa molto poco sul passato delle osservazioni di supernova nella nostra Via Lattea. Vedere un'esplosione galattica, in particolare una così vicina come Betelgeuse, nella nostra vita sarebbe un'impresa incredibile. Le reazioni di fusione termonucleare interne sono ciò che conferisce luminosità alle stelle. Il processo è piuttosto semplice. Le stelle grandi, alla fine, esauriranno i combustibili semplici, ma continueranno a bruciare combustibili più complicati, fino a quando i loro nuclei saranno di ferro, momento in cui la combustione nucleare si fermerà. Dopo che la fusione si ferma, le pressioni e le temperature estreme all'interno di una stella diminuiscono e la stella stessa diventa molto più massiccia. Dopo il collasso, la stella rimbalza in un'esplosione spettacolare, nota come supernova. Una volta esaurito il loro rifornimento di combustibile, le grandi stelle come Betelgeuse subiscono un'esplosione di supernova di tipo 2, caratterizzata da un rapido collasso e un'esplosione esplosiva. Qualunque cosa stia accadendo all'interno di una stella, il suo combustibile residuo e la sua prossimità al collasso determinano quando esploderà. Ma come funziona Betelgeuse internamente? Si crede che Betelgeuse sia nelle fasi finali della combustione del carbonio nel nucleo, secondo scoperte recenti. E per una stella grande come Betelgeuse, il periodo di combustione del carbonio dura circa mille anni. Se siamo effettivamente vicini alla fine di quella fase, allora Betelgeuse è probabilmente sul punto di esplodere, forse anche tra decine di anni. Ma non sono anche possibili altre opzioni. Senza dubbio lo sono, poiché le condizioni superficiali raramente cambiano nella fase tardiva vicina all'esaurimento del carbonio e oltre i ricercatori sostengono che non è possibile determinare l'esatta fase evolutiva. Ciò che accade in profondità dentro una stella racconta la storia, anche se gli astronomi possono vedere solo la superficie, quello che gli autori del documento vogliono dire è che l'esplosione di Betelgeuse potrebbe avvenire prima del previsto, basandosi su osservazioni, dati e modelli. Tuttavia è importante notare che non hanno idea di dove si trovi la stella nel suo processo principale di combustione del carbonio. Secondo alcuni modelli di adattamento dei dati, la combustione del carbonio potrebbe continuare ancora per un po' di tempo. Betelgeuse potrebbe potenzialmente esplodere domani. È per questo che Betelgeuse si è oscurata nel 2019? L'improvviso e notevole oscuramento di Betelgeuse alla fine del 2019 ha suscitato entusiasmo in tutto il mondo. Questo fenomeno è ora conosciuto come il grande oscuramento di Betelgeuse tra gli astronomi. Molti pensavano e speravano che il grande evento, l'esplosione di questa stella relativamente vicina, stesse per avvenire mentre si stava verificando. Betelgeuse non è ancora esplosa, anche se si è affievolita, illuminata, oscurata di nuovo, oscurata di nuovo, e così via. Secondo gli astronomi che hanno studiato dati provenienti da numerosi osservatori, incluso il telescopio spaziale Hubble della NASA, la brillante stella supergigante rossa Betelgeuse è esplosa nel 2019. Una grande parte della superficie apparente di Betelgeuse è stata oscurata quando la stella ha rilasciato una enorme eiezione di massa della superficie. Nulla di simile è stato mai osservato nel comportamento di una stella tipica. Le eiezioni di massa coronale sono eventi regolari quando il nostro Sole espelle regolarmente porzioni della sua delicata atmosfera esterna, la corona. Tuttavia, rispetto alle eiezioni coronali regolari, l'eiezione di massa della superficie di Betelgeuse ha rilasciato 400 miliardi di volte più massa. Di conseguenza, sembra che il grande oscuramento di Betelgeuse del 2019 sia stato causato da una nube di gas caldo che ha oscurato momentaneamente parte della luce della stella. Chiaramente, qualcosa sta accadendo a Betelgeuse e sta succedendo di nuovo. Anche se Betelgeuse dovesse esplodere, sarebbe troppo lontana per causare danni, tantomeno per sterminare la vita sulla Terra. Secondo la ricerca, affinché una supernova causi danni, dovremmo essere a meno di 160 anni luce da essa. La distanza da Betelgeuse è probabilmente quattro volte maggiore. Il cielo notturno sarà ornato da uno spettacolo incredibilmente mozzafiato. Una stella incredibilmente luminosa per tutti sulla Terra quando Betelgeuse esploderà finalmente. La prossimità di una Betelgeuse esplosa piacerà anche agli astronomi esperti. Dopo la supernova, avranno una stella da studiare. D'altra parte, l'esplosione sarà divertente sia per gli astronomi professionisti che per gli amatori. Tuttavia, Betelgeuse sarà molto mancata da coloro che amano vederla come la brillante stella rossa di Orione. Nel frattempo, una stella morta presto scatenerà uno spettacolo unico nella vita nei cieli della Terra. La meraviglia astronomica Corona Borealis, una costellazione a forma di arco, era visibile all'abate dell'abbazia di Ursberg nel sud della Germania nell'ottobre del 1217. Scrisse in latino all'epoca era originariamente una stella debole che brillava con grande luce per un po' e poi tornò alla sua debolezza originale. Non fu il primo né l'ultimo a vederla. Questa apparizione stellare emerge, poi scompare, circa ogni 80 anni, e questo perché in realtà non è affatto una stella. Quell'abate fu testimone di un'esplosione termonucleare a 3000 anni luce di distanza. Proveniva da una nana bianca, uno zombie stellare che sta divorando materia da una stella gigante rossa vicina. Una volta al secolo si riempie e, quando lo fa, erutta scatenando un inferno di fuoco di una settimana. Questo è T. Coronae Borealis, spesso abbreviato in TCRB, e ciò che gli astronomi chiamano una nova, una parola derivata dalla descrizione latina di questi eventi come nuove stelle che molti osservatori premoderni assumevano essere. TCRB è esplosa per l'ultima volta nel 1946 e il suo comportamento suggerisce che il suo prossimo parossismo potrebbe avvenire in qualsiasi momento tra adesso e settembre. A quel punto TCRB sarà un diamante transitorio nella corona stellare della sua costellazione visibile ad occhio nudo. Gli astronomi non considereranno questa ultima esplosione come un evento casuale ma come un'opportunità per ottenere una migliore comprensione delle novae i colpevoli spesso trascurati dietro al caos cosmico. Le novae sono eventi completamente strani dice Bradley Schaefer un astronomo della Louisiana State University tuttavia TCRB è diversa da tutte le altre contrariamente alle aspettative attraversa un'altalena di luminosità crescente e decrescente. Se vuoi sapere qualcosa su una popolazione cercare i suoi casi estremi potrebbe essere la strada da percorrere. Quando TCRB esploderà una grande frazione di tutti i telescopi del mondo sarà puntata verso di essa. È utile avere una comprensione di base delle novae per cogliere l'entusiasmo che TCRB ha generato tra gli astronomi. In ognuna di esse una nana bianca il piccolo residuo di una stella morente e una stella compagna normale in questo caso una gigante rossa gonfiata sono combinate in modi mortali. L'idrogeno della stella compagna cade sulla superficie della nana bianca a causa dell'attrazione gravitazionale della nana bianca poiché è molto densa. Una reazione a catena inarrestabile che porta a un'esplosione nucleare viene innescata quando questo strato diventa caldo e infine prende fuoco. Questo è come una gigantesca bomba all'idrogeno che espelle tutta l'atmosfera di questa nana bianca delle dimensioni della terra. Non deve essere confuso con le supernovae che sono esplosioni più catastrofiche che portano alla distruzione di una stella. Tuttavia ciò non diminuisce in alcun modo la loro importanza o il loro carattere stupefacente. In una serie di eruzioni devastanti le nove riescono a preservare i loro genitori stellari mentre arricchiscono i loro ambienti celesti con una potente miscela di elementi recentemente formati. Una delle principali fonti di litio potrebbe essere le novae che producono anche ossigeno azoto e carbonio tre degli ingredienti più essenziali per la vita. Quindi decifrare le novae è essenziale per comprendere il percorso dall'astronomia alla biologia. Se gli astronomi sono fortunati le novae ricorrenti quelle che esplodono almeno una volta ogni cento anni possono servire come guide di studio affidabili. Anche con TCRB ne hanno scoperte solo circa dieci nella via Lattea finora. Le eruzioni di questo sistema sono state registrate solo per quattro anni 1217 1787 1866 e 1946 nonostante TCRB sembri abbastanza affidabile gli astronomi antichi hanno dimostrato che è imprevedibile. Dopo un'analisi approfondita delle sue due eruzioni registrate precedentemente gli esperti hanno determinato che ci si aspetta che esploda tra circa tre mesi più o meno e sarà visibile per alcuni giorni. Alcuni dei più prestigiosi osservatori del mondo stanno già pianificando di cogliere l'opportunità di catturare l'esplosione di TCRB in ottico radio raggi X e altre lunghezze d'onda della luce quando sarà il momento. Sono coinvolti anche astronomi amatoriali con una sorveglianza così completa TCRB potrebbe passare da essere un'anomalia cosmica a fornire soluzioni a misteri che riguardano tutte le novae. Per esempio quanto sono rapide le loro eruzioni? L'astronomia raggi X può aiutare con questo. Quando si verifica un'eruzione hai questa palla di fuoco calda e splendente dice Koenig che emette raggi X. Man mano che si espande il guscio espulso della nana bianca si raffredda e successivamente emette radiazioni ottiche. La differenza di tempo tra i lampi di raggi X e quelli ottici può misurare la velocità con cui il materiale espulso si muove. Neutrini quasi privi di massa sono prodotti da vari tipi di cataclismi cosmici e possono rivelare dati segreti sui potenti processi che li hanno liberati. Tuttavia la rilevazione dei neutrini è notoriamente difficile e finora nessun neutrino è stato rilevato da una nova. Sarebbe utile però sapere quando e dove ci si aspetta che una nova che produce neutrini esploda. Una nuova prospettiva sulla fisica esplosiva di tutte le nove potrebbe essere rivelata se risultasse che i rilevatori di neutrini di attuale generazione sono in grado di rilevare TCRB. Anche se molti astronomi sono interessati alle esplosioni di Novas la questione di cosa potrebbero evolversi è forse più affascinante. Una coppia di stelle inclusa almeno una nana bianca divoratrice di gas subisce uno scambio di massa in questo tipo di supernova molto simile a quello delle Novas regolari. Tuttavia la loro esplosione termonucleare è così potente che distrugge la nana bianca accumulatrice di materia. Uno scenario comune per una supernova di tipo 1A è una nana bianca che ha consumato una quantità enorme di materia stellare raggiungendo il limite di Chandrasekhar e diventando 1,4 volte più pesante del sole. Quando la massa della nana bianca diventa troppo grande per essere sostenuta si innesca una reazione a catena termonucleare e esplode nella propria distruzione. Di conseguenza la cosa più importante da sapere è come queste nane bianche riescano ad accumulare abbastanza materia per superare il limite di Chandrasekhar. Poiché le supernovae di tipo 1A dovrebbero esplodere teoricamente allo stesso modo indipendentemente dalla loro posizione nel cosmo le loro esplosioni sono strumenti utili per misurare enormi distanze tra le galassie. Quindi se gli astronomi possono trovare anomalie nelle esplosioni comparabili ma più piccole delle novas regolari ciò potrebbe alterare leggermente i loro errori di misurazione del cosmo basati sul tipo 1A Ogni volta che una nana bianca esplode potrebbe non divorare o espellere completamente tutta la materia che ha accumulato quindi gli scienziati sono interessati a studiare come funzionano le novas regolari quanta di quella materia rimane sulla nana bianca quanta viene espulsa in una nova questo bilancio apocalittico può essere verificato durante la prossima eruzione di TCRB la nana bianca è principalmente composta di carbonio e ossigeno mentre la gigante rossa dona idrogeno fornendo una lista di ingredienti di base dalla quale possono essere determinate le proporzioni relative nei detriti di una nova a causa dell'esplosione imminente di TCRB gli astronomi sperano di ottenere informazioni sulle tre peculiarità sconcertanti di questa nova particolare non conosciamo altre novas che presentano queste caratteristiche la maggior parte delle novas rimane debole e diventa molto brillante solo durante le eruzioni ma TCRB è insolita in due aspetti in primo luogo è in uno stato di luminosità modesta per circa dieci anni prima e dopo un'esplosione durante il quale emette una luce calda blu e violenta cosa causa la disattivazione dello stato elevato perché si attiva lo stato elevato comunque non abbiamo la più pallida idea di cosa stia succedendo la seconda caratteristica strana è il suo calo di luminosità pre eruzione che avviene circa un anno prima dell'eruzione annuncia un'eruzione imminente ed è anche un enigma strano e senza precedenti secondo alcune teorie la materia accumulata della nana bianca acquisisce una pellicola una copertura polverosa che nasconde il fuoco ardente sottostante man mano che si avvicina alla sua fase di ben cotto è possibile che il calo pre eruzione sia causato da TCRB che espelle gas prima della sua eruzione il che poi forma gusci di polvere e blocca la luce dal sistema centrale infine sembra che TCRB abbia un'eruzione secondaria pochi mesi dopo la sua esplosione questa eruzione è brillante ma non corrisponde esattamente alla luminosità della prima esplosione potrebbe continuare per alcune settimane o mesi un mistero duraturo è stato il massimo secondario secondo Munari sfortunatamente lui fornisce un possibile rimedio in un recente preprint è tutta un'illusione non solo un'altra eruzione la nana bianca che infiamma l'emisfero osservabile della gigante rossa durante la sua fase di accrezione ed eruzione mentre la nana bianca può raffreddarsi dopo l'eruzione il lato della gigante rossa che affronta l'inferno è ancora molto caldo quando questo lato caldo si gira per affrontare la terra gli astronomi vedono erroneamente questo bagliore e pensano che sia una seconda eruzione e quando TCRB scatenerà veramente il suo fuoco infernale tutti saranno in grado di valutare l'idea di munari cosa accadrebbe se le stelle scomparissero è un'altra questione importante da considerare la nostra capacità di stabilire il calendario navigare e avanzare nella conoscenza scientifica dall'agricoltura alla fisica sarebbe gravemente ostacolata in assenza di stelle cambiamenti nelle dinamiche di potere globale e modifiche ai modelli migratori umani ai paesaggi politici e alle rotte commerciali potrebbero derivare da un mondo senza stelle e navigazione astronomica la cultura il commercio e l'emergere di nuove potenze mondiali subirebbero tutti i cambiamenti drammatici in un cielo senza stelle in ultima analisi il sole è una stella immagina un mondo privo di stelle sole e vita se ti trovassi in questo cosmo senza stelle e senza vita potresti desiderare di aver portato un cappotto più caldo mentre flutui attraverso un'immensa distesa di vuoto gelato sarebbe più difficile trovare burritos decenti di tanto in tanto un neutrino lampeggerebbe dentro o fuori dall'esistenza fuori dall'esistenza allora come possiamo riformulare il concetto e se le stelle fossero invisibili in questo universo ipotetico la terra avrebbe ancora pianeti e un sole ma non potremmo vedere nessuna stella al di fuori del nostro sistema solare possiamo supporre che questo sia dovuto al fatto che una nebulosa oscura circonda il nostro sistema solare le nebulose sono enormi nubi di gas e polvere che di solito si fondono per creare stelle brillano intensamente per questo motivo ma di tanto in tanto una grande nuvola di polvere interstellare oscura la loro luce a causa della sua bassa temperatura il nostro sistema solare si trova all'interno di una nebulosa oscura ma abbiamo avuto una cattiva sorte galattica quando si è formato il nostro sole è quello che ci immaginiamo per il momento man mano che la vita emergeva sulla terra nebulosa le stelle si attenuarono e il sistema solare si immerse in una nube di polvere il cielo notturno divenne sempre più nero la notte in cui il primo coraggioso pesce polmonare strisciò sulla terra mentre la polvere si accumulava sempre più densa nei milioni di anni successivi il cielo notturno era riempito dai resti delle ultime e più brillanti stelle che avevano attraversato la nebulosa una manciata di macchie rosse nell'oscurità tutto ciò che l'umanità poteva vedere quando finalmente guardava in alto erano i pianeti e la luna sulla terra nebulosa gli esseri umani mancano della tecnologia necessaria l'uso delle stelle è stato una parte integrante della storia umana permettendo agli esseri umani di stabilire calendari navigare determinare quando piantare i raccolti e avanzare nella conoscenza scientifica in particolare nel campo della fisica una fonte importante di potere per i sacerdoti egiziani era la capacità di prevedere il cammino delle stelle è più difficile per i sacerdoti sulla terra nebulosa reclutare aiutanti per le piramidi quando non hanno un mandato divino tuttavia con così tante limitazioni tecnologiche sarebbe una sfida a prevedere le conseguenze a lungo termine pertanto concentriamoci su un'area specifica la navigazione stellare tenere d'occhio la costa consente ai primi europei che navigano intorno alla terra nebulosa di circumnavigare il mar mediterraneo un orologio solare e una bussola facilitano l'orientamento durante il giorno ma di notte avrai bisogno delle stelle per localizzare la tua posizione esatta la navigazione diventa più pericolosa quando non puoi vedere la terra anche una piccola tempesta potrebbe rendere impossibile sapere dove ti trovi qualsiasi viaggio marittimo più lungo di un giorno ha un margine di errore sempre maggiore a causa dell'orientamento sempre più impreciso rendendo i viaggi su mari aperti praticamente impraticabili tutte le grandi migrazioni umane sulla terra nebulosa avvengono sulla terraferma poiché il pianeta manca di navigatori avanzati anche se sono state abitate da quando sono avvenute migrazioni terrestri quando i livelli del mare erano più bassi le americhe l'agroenlandia e l'australia continuano a essere geograficamente separate tra loro anche dopo che gli europei le hanno colonizzate c'è una completa mancanza di abitazione umana su altre isole celestiali navigabili come Hawaii Nuova Zelanda e Islanda anche se queste isole sono tecnicamente navigabili qualsiasi marinaio che vi capitasse sarebbe completamente perso se riuscisse mai a tornare a casa quindi le stelle hanno ragione a essere visibili l'universo è piuttosto misterioso nel suo funzionamento su off di